Valle dei Segni wine trail torna quest'anno per la seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno che ci ha visto partecipi di una grande gara di un grande evento in Valle Camonica nella Valle dei Segni torniamo pronti quest'anno per fare ancora un grande evento per portare lo sport in Valle Camonica nella nostra valle sarà un evento ancora importante sulle tre distanze ripercorriamo il lavoro fatto l'anno scorso 55 km 18 km e la 8 km e poi quest'anno la grande novità sarà una gara per i più piccoli quindi la Valle dei Segni Kids quindi vogliamo riuscire a crescere ancora per fare un evento importante che ci possa veramente far crescere per raggiungere quel livello internazionale che è uno dei nostri grandi obiettivi di un evento importante che ci possa fare un evento importante che ci possa fare un Grazie a tutti